Ciao a tutti, oggi prima di andare avanti con la realizzazione di altri lavori ci tenevo a presentarmi. Allora, ci tengo a dirvi che mi chiamo Daniela e anch'io sono alle prime armi, sono giusto qualche mese che ho iniziato a fare il chiacchierino d'ago e appena me l'hanno insegnato, io mi sono appassionata credo anche come voi, anzi se qualcuno di voi è più esperto sono felice di ricevere anche dei vostri consigli, se avete delle idee io le posso anche realizzare e metterle nei miei video. Dopodiché ci tengo a dire che da poco ho aperto una pagina facebook proprio che si chiama chiacchierino ad ago, lì mi potete chiedere qualsiasi cosa e io cercherò di rispondere alle vostre domande, infatti alcune domande che mi avete posto, spesso mi avete chiesto che aghi uso o che tipo di filo e oggi voglio rispondere proprio a queste domande. Allora per prima cosa parliamo degli aghi, ci tengo a dire che io ho comprato questi aghi nel sito di spazio ricamo, lo cito spesso perché io mi ci sono trovata veramente molto bene e in questo sito trovo che siano anche molto professionali, io come potete vedere e anche ho detto altre volte ho acquistato una confezione da sei aghi dove ci sono vari spessori, varie misure, per chi ha le prime armi è molto utile perché all'inizio non si sa di preciso come vengono i lavori o che cosa vi andrà meglio, quindi è importante secondo me prenderli perché in base a quello che andrete a fare potete utilizzare vari aghi. Ad esempio io utilizzo molto spesso anche nei miei video l'ago numero 6, se non vado errata, che è una via di mezzo diciamo e dove a mio gusto e piacere le realizzazioni che faccio mi piace come viene lo spessore, però se a volte lo voglio anche un po' più spesso il lavoro ho utilizzato anche l'ago numero 7, vedete è nettamente più spesso e vi consiglio se poi vi arriveranno di fare delle prove perché vedrete che ci sarà molta differenza nelle lavorazioni che andrete a fare. Dopodiché e anche sempre su questo sito di Spazio Ricamo ho trovato utile comprare questo libro che si chiama proprio creare gioielli con il chiacchierino d'ago. Io per chi ha le prime armi lo consiglio perché all'interno, adesso lo sfoglio un po', ci sono le prime tecniche, proprio la base dove vi insegnerà il mezzo nodo A, il mezzo nodo B, doppi nodi, pippiolini eccetera fino a farvi realizzare alcune creazioni. Io l'ho trovato molto utile, anzi penso che comprerò anche altri libri. Bene, finito con questo vi voglio parlare anche dei fili. Molti di voi mi chiedono che tipo di filo io utilizzo. Allora, molto semplicemente io utilizzo un filo da uncinetto di cotone, principalmente utilizzo il numero 8. Più spesso no, perché a me non piace, però vedete voi. Utilizzo il numero 8, però anche qui varia. Per esempio ho questo filo verde dove lo spessore nettamente è più sottile, diciamo. Adesso vi voglio far vedere per esempio, non so se si capirà, lo spessore dei due fili. Quello verde è un po' più sottile, forse qui non si capisce. Ve lo voglio far vedere con la realizzazione dei lavori. Qui secondo me lo capirete molto meglio. Vedete? Questo qui è lo stesso orecchino e anche i numeri dei nodi sono assolutamente identici, ma vedete la differenza di grandezza? Questo rosso che ho fatto col filo numero 8 è venuto nettamente più grande. Questo qui è venuto un pochettino più sottile, quindi anche qui va molto a vostro gusto. Per esempio ci sono persone che apprezzano di più le cose più sottili perché hanno una cosa un po' più fine, un po' più delicata, oppure è l'altro. Questo insomma lo deciderete voi a mano a mano. Dopodiché parliamo delle perline. Per quanto riguarda le perline, io sì ho comprato moltissime cose nelle mercerie, oppure anche nei mercati si trovano tantissimi che le vendono. Nelle mercerie bene o male si comprano queste perline qui, della numero 9, se non mi sbaglio. Sono abbastanza piccole. Io infatti a volte ho delle difficoltà perché quando faccio dei lavori l'ago non mi entra bene dentro la perlina. Invece ho trovato molto utile su internet, ho trovato il sito Hobby e Perline, dove lì c'è una varietà di perline, una vasta gamma, anche di grandezze, di colori, c'è una marea di cose. Adesso qui ne ho solo alcune di quelle che ho, però per esempio ho acquistato nei vari colori e nelle varie grandezze, ad esempio queste che sono delle pietre naturali, molto belle ametista, di 8 mm. Queste vanno benissimo per realizzare per esempio delle collane o dei pendenti di orecchini. Dopodiché quelle che utilizzo di più in assoluto sono queste qui, che sono le perline, quelle un po' più piccole, però lì si chiama della Toho, numero 8, oppure anche la numero 6 che utilizzo tantissimo, che è anche una via di mezzo. Si lavorano benissimo perché l'ago entra perfettamente dentro la perlina e non vi dovete stare ogni volta a preoccupare di come realizzare i lavori. Dopodiché, sempre su Hobby e Perline, scusate, ho trovato molto utile comprare ad esempio delle monachelle. Le trovo anche nel mercato, però lì mi sono trovata più comoda, per dire, perché sono analergici. Spesso oggi ci sono molti che hanno allergie e così trovo utile comprarle lì. Le ho prese ad esempio ottone antico, ci sono tipo nere, insomma quello poi va anche a vostro gusto perché è a seconda di quello che dovete realizzare. Poi ho comprato anche questa pinza su Hobby e Perline e questa è una via di mezzo perché non è una delle più economiche, se vogliamo dire così, però per le prime armi la realizzazione è utilissima perché fa diverse cose. Per esempio, qui come potete vedere ha la tronchesina, quindi se dovete tagliare qualcosa oppure c'è per schiacciare o per allargare i vari anellini. Io l'ho trovato molto utile. Poi magari vedete voi, se avete qualcos'altro. Dopo va anche molto a vostra fantasia, per esempio come abbinare le perline e i fili. Io per esempio, vedete, su un filo beige mi è piaciuto tantissimo mettere una perlina opaca sul violaceo. Lo trovo molto elegante e mi è piaciuto metterci la monachella Ottone Antico. Anche qui va molto a fantasia. Io ho creato questo orecchino anche nero con perline oro e via discorrendo. Che dire altro? Spero che ho risposto a tutte le vostre domande. Comunque, come ripeto, nella mia pagina Facebook potete chiedermi qualsiasi cosa. Io cercherò di rispondere a tutte le vostre domande. Spero vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima lezione.